Ok, mi chiamo Kuda Roberta, mi chiamo Greta, mi chiamo Agnieszka e sono Camere Rai. Del mio lavoro qui mi piace avere anche il contatto con i clienti per renderli felici. Mi piace stare con la gente, lavorare con gli ospiti, mi dà tanta soddisfazione. Com'è Agnieszka come persona? È una persona stupenda, veramente è un'amica, non solo una collega, è un'amica. Definire l'hotel in tre parole? Tre parole, sarà un po' difficile. Famiglia. Fiducia, è meravigliosa. Fiducia, è meravigliosa.